Sostegno all'agricoltura biologica e ad alcuni interventi agroclimatico-ambientali. La Giunta regionale ha approvato le domande relative ai bandi emanati nel dicembre scorso come complemento del Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna in applicazione al piano strategico della PAC approvato dalla Commissione europea. Sono 2.620 le domande di sostegno finanziate per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica con la concessione dell'area agricoltura sostenibile che in tutta la Regione riguarda una richiesta per oltre 14,7 milioni di euro annui e una superficie totale di oltre 68.600 ettari. Il nostro obiettivo, commenta l'assessore all'agricoltura Alessio Mammi, è sostenere il reddito delle imprese agricole e garantire opportunità di investimento e innovazione per i nostri agricoltori. È importante continuare a lavorare per tenere insieme sostenibilità ambientale, economica e sociale per tutelare la biodiversità, il reddito delle imprese e il lavoro e la tenuta delle nostre comunità. Per quanto riguarda la conversione dei seminativi in prati e pascoli, sono state ammesse 14 domande finanziate per circa 25 mila euro annui e per oltre 100 ettari di superficie agricola utile, mentre per l'intervento allevatori custodi dell'agrobiodiversità sono state finanziate 92 richieste per 245.800 euro annui e per un totale di 1.229 unità di bestiame adulto. Gli allevatori che accedono a questi finanziamenti si impegnano a favorire la tutela e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e operano per la conservazione delle risorse genetiche delle razze animali autoctone, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate a essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.